Sono sposata e ci vivo con mio marito e mio figlio. A questa città ho dedicato il mio impegno sociale e politico per renderla più vivibile e culturalmente più avanzata. Il mio obiettivo è stato sempre quello di far dimenticare la Nichelino dormitorio, come sempre era stata nominata. Ho scelto di aderire alla lista Rigio Sindaco per difendere la scelta dei cittadini che democraticamente hanno votato per scegliere il proprio sindaco e anche per dare un contributo per creare nuove opportunità di lavoro. In considerazione del mio percorso di studio e del lavoro che svolgo attualmente, sono un'impiegata amministrativa nel settore della rigenerazione urbana. Il mio compito consiste nel ricevere le persone che chiedono informazioni sulle attività presenti nel territorio e accogliere le proposte legate alle opere di urbanizzazione, comprese le segnalazioni dei cittadini per la manutenzione ordinaria del territorio, ma anche per mantenere l'ordine pubblico. Semplicemente ho un contatto diretto con tutti i problemi dei cittadini, compresi quelli legati alla ricerca del lavoro. Sulla base di queste esperienze vorrei contribuire a migliorare la città unendo le mie competenze a quelle di altri esperti. Vorrei realizzare insieme ai cittadini intenzionati a collaborare un progetto per la valorizzazione del nostro comune che includa Nichelino tra le città turistiche. La palazzina di caccia di Stupinigi è uno straordinario gioiello architettonico e museale. Al suo interno è allestito il Museo Nazionale dell'Aredamento ed è patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO insieme alle altre dimore sabaude. Non dobbiamo dimenticare che si trova nel nostro territorio comunale e come tutte le attrazioni turistiche può portare anche benessere economico. Il 25 maggio, se avrò il vostro voto, potrò perseguire più efficacemente questa parte del programma. Attraverso la valorizzazione della pista ciclabile, in buona parte già realizzata, si potrebbe attivare anche un servizio di noleggio bici organizzato che partendo dalla piazza principale attraversi tutto il Borgo Vecchio, realizzando delle sosse tematiche e di valorizzazione delle attività commerciali. Tramite tale percorso si potrà raggiungere comodamente la palazzina di caccia e il grande parco di Stupinici. Altro progetto da portare avanti è il recupero delle cascine che affiancano la palazzina per farne sedi di mostre, negozi di antiquariato e attività di ristorazione, utilizzando i prodotti agricoli a chilometro a zero. A Nichelino, infatti, sono insediate molte aziende agricole di qualità. Occorre organizzare visite guidate alle cascine e alle attività agricole del territorio. Penso a strutture adeguate dove ospitare mostre di alto livello e di artisti meno conosciuti, non solo michelinesi, che possano ottrare molti visitatori. La città di Nichelino dovrà diventare la porta principale per accedere alla palazzina di caccia di Stupinici. Penso che Nichelino abbia delle risorse importanti sul suo territorio. Deve solo imparare a valorizzare queste risorse. Se sarò eletto, mi impegnerò a finché il castello segre diventi segre di importanti eventi, fruibili anche dai cittadini michelinesi. E poi vorrei che fosse dato risalto all'azienda artigiane, che sono apprezzate per i loro prodotti anche oltre a Nichelino, ma che purtroppo nella nostra città non godono della giusta visibilità. Secondo me dobbiamo imparare a dare una bella vetrina alle nostre migliori risorse, non solo per dare più prestigio alla nostra città, ma per far crescere l'economia e creare posti di lavoro, anche attraverso le iniziative culturali. Guardiamo ad esempio Venaria, ha cominciato la sua attività turistica e culturale con la ristrutturazione della regia. E oggi è una delle cittadine più ricche e visitate a livello proprio internazionale. Quindi la strada della cultura è una strada che si deve assolutamente, secondo me, perseguire per migliorare la nostra città dal punto di vista culturale e anche economico. Grazie Cinza, stai qua, stai qua, stai qua, stai qua.